È un paradiso del gusto dolce e sfizioso, una doppia anima per il nuovo punto vendita di Maria Sweet Love, che richiama da una parte la classica boutique del cioccolato del nord Europa per atmosfera e spazi e dall'altra mantiene la tradizione della famiglia di Maria, che da più di 40 anni opera nel settore del cioccolato e dei confetti. Siamo molto soddisfatti di questa nuova avventura, diciamo che è un nuovo obiettivo che ci siamo posti. Abbiamo voluto aprire questo nuovo punto vendita non solo per incrementare il nostro lavoro, ma anche per ringrandire un po' l'azienda, per andare anche fuori regione e se possibile anche fuori nazione. Diciamo che vogliamo dare ai nostri clienti sempre il massimo. Notevoli soddisfazioni per la famiglia di Maria, che ha portato all'Expo di Milano una delle sue ultime creazioni, la cioccolata alla tintilia e poi a Londra con una tavoletta di cioccolato al gelso bianco. Noi siamo stati quest'estate all'Expo a presentare, ci hanno chiamato come rappresentante per il Molise, dove abbiamo portato un cioccolatino, abbiamo creato un cioccolatino, dove c'era cioccolato abbinato ai prodotti del territorio del Molise. Abbiamo portato un cioccolatino con miele di sulla e grappa di tintilia. Veramente ha avuto un grande successo, è stato molto apprezzato. Siamo stati a Londra a una manifestazione dei prodotti di eccellenza, dove la nostra tavoletta biologica al gelso bianco ha avuto un premio di qualità con ben due stelle, tipo le stelle Michelin, queste le chiamano le Awards. E quindi è stata molto apprezzata sia come genere di prodotto, perché il gelso bianco è una cosa insolita, che come qualità. E quindi siamo molto soddisfatti. Il nuovo punto vendita sorge nell'ampio complesso della zona industriale di fronte al multisala maestoso.